A bordo di un furgone hanno sfondato e distrutto l'ingresso A del centro commerciale mongolfiera di Andria sino ad arrivare ad un negozio di giochi dove hanno compiuto il vero e proprio furto. E' quanto accaduto nella notte ad Andria all'interno della galleria commerciale. Providenziale comunque l'intervento sia dell'istituto di vigilanza Vegapol che della polizia di stato. In fuga e malviventi con un bottino di circa 3.000 euro e numerosi danni alle strutture della galleria commerciale. I malviventi si sarebbero introdotti nella struttura andriese circa alle ore 3.30 e non hanno intaccato nessun altro negozio del centro commerciale. Indaga la polizia di stato che ha al vaglio tutti i filmati di videosorveglianza.